C'è un segno che noi possiamo individuare dentro la società o nel mondo che noi abbiamo acquisito questo nuovo grado? C'è un segno, qualcosa che si può vedere a testo di esso nella società o nel mondo, vedere che abbiamo acquisito questo nuovo grado? No, fino a che noi acquisiamo di fatto il grado è vietato a noi neanche di vedere che noi ci avanziamo verso questo, soprattutto l'avanzamento adesso è un tipo di allontanamento, quando noi avremo una mancanza più potente, più grande, questa oscurità più grande è prima dell'alba. Noi ci avviciniamo al prossimo grado, sembra a noi che siamo lontani, lontani, ancora più lontani, ancora più lontani, perché noi, anche se noi acquisiamo la consapevolezza, la conoscenza sedezza, quanto noi conosciamo di più, acquisiamo più conoscenze, ha una sensazione a questo grado, noi comprendiamo quanto noi non ci troviamo in questo grado. E come tu parlerai con qualche grande esperto in, non so, in assenza, in medicina, e lui ti dirà quanto ci sono dei problemi, non comprendono le persone, noi non comprendiamo queste saggezze e così via, e lui ha molte domande, è però una persona semplice, tutto è chiaro, tutto va bene, tutto è chiaro. Tu vedi, ognuno che ascolta il notiziario, ride dal governo, ride tutti, come non sanno sistemare le cose, datemi a me, io governerò, io comanderò, e tutto andrà benissimo, tutto è sistemato grazie a me. Anche in questo mondo lo vediamo, è spirituale, oltre che noi non raggiungiamo, acquisiamo il grado, sembra a noi, che noi proprio non siamo adattati, non siamo degni, questo è veramente il segno che noi ci stiamo avvicinando alla spiritualità. C'è scritto una giornata in molte parti, anche specialmente, particolarmente, c'è la lì di Rabbi Shimon, che prima che sono arrivati al raggiungimento del grado alto, ho scritto su Rabbi Shimon, non di se stesso, che era il Rabbi Shimon del mercato, e lui ha capito in quel momento che lui si tratta prima del grado del Messias. Per questo, per la fine della correzione vuol dire, per questo giorno possiamo vedere, non in noi, non nel mondo, che noi veramente riusciamo, ci troviamo, così, ore, così, forze, Già, lo Newton, che deve dare delle forze, per arrivare ancora a lì, rimane a loro questa quantità di sforzo, da sforzarci, diciamo chilogrammi o metri, non importa come misuriamo le cose, questo ci manca a noi alla metà, no, no, non possiamo, al contrario, l'uomo disperato delle sue forze, ha proprio la disperazione completa, allora arriva questo grido, e l'uomo intende il gruppo, la struttura, questa simile all'Adam Rishon, la primo uomo, allora in quell'omento arriva. Per quale ragione è così? Per questa è la natura dei gradi, non è che a posto è stato fatto qualcosa della spiritualità, che tu hai qualche, vorrei fare a posto una cosa così qui, in un altro grado così, la natura dei gradi così, del sistema, perché tu devi arrivare al grado prossimo, che è tutto, più per l'adazione. Allora è chiaro che per essere più adattato al grado ulteriore di un'adazione, tu devi di più essere nell'oscurità, nella mancanza. E giù del fatto che ti trovi l'oscurità, ringraziare che ti trovi l'oscurità, lodare, anche vedere con questo quanto tu veramente ti trovi nell'adazione adesso, quanto l'oscurità è più, io stabilisco me stesso ancora di più alla meta, verso questa oscurità. Allora io sono più vicino all'adazione, sono nell'adazione in sé, per questo è un aiuto, però non è che è fatto apposta per qualcuno, è la forma, la natura fra l'inferiore e il superiore, che il Ket è all'inferiore, la Malhut è al superiore, quello che la luce è al grado inferiore e oscurità nel grado superiore. E per questa ragione, con il fatto che noi scopriamo, dopo il nostro sforzo, l'oscurità, oltre che ci avviciniamo alla Malhut del superiore. È chiaro questo? Bene, bello. Abbiamo già, queste sono delle cose che noi già, relativamente sono più triviali, più banali. Noi già, ci troviamo in questo già, rimane a noi soltanto un'unica cosa, specialmente prima del congresso, è accettare col fatto che non raggiungiamo, acquisiamo nulla, riusciamo a questo, come questo è un raggiungimento completo, più elevato possibile e grande, che possiamo acquisire. Questi sono segni dell'adazione. che sono disposto a lavorare, per l'eternità, a dare i miei sforzi, e tutto andrà, non per non c'è nulla, tranquillo, questo si deve chiamato come guadagno, se non andrà tutti i miei nemici, loro guadagneranno tutti i miei nemici, qualcosa del genere. che è in dove?